Uno speciale polifemo da Roma, ci troviamo proprio dinanzi al Ministero del Lavoro in via Molise 2 USB di Taranto con le altre delegazioni a Roma e con l'amico Riccardo Cristello, conoscete tutti la sua vicenda, licenziato da Arcelor Mittal per aver condiviso un post che non nulla centrava con l'azienda, basta leggerlo. Stiamo seguendo la vicenda, Cristello quali sono le novità? Ieri c'è stato l'incontro in azienda, mi par di capire che l'azienda vorrebbe le sue scuse, ma chiaramente lei dice che non posso chiedere scusa per un qualcosa che non ho fatto. Sì esatto, l'ho già ribadito in altre circostanze, non ho fatto nulla di male, quindi perché dovrei chiedere scusa per non aver fatto nulla? Sono sottigliezze che stanno verificando i legali, come hai detto tu ieri c'è stato un incontro pacifico, chiarificatore sui vari punti del post dove loro incriminavano l'eventuale avvicinamento, accostamento alla società. L'avvocato ha fatto notare che tutto questo non è veritiero, ma sono solo congetture da parte loro, però sta redatto una nuova documentazione, un ampliamento della giustifica che ci ha fatto, da dove si va a specificare meglio e a far capire meglio la distanza che ha il post nei confronti della società. Ecco qui vedete come prego i nostri operatori di far vedere come c'è una grande partecipazione, perché il caso non lo voleva certamente Riccardo Cristello, ma ha avuto una dimensione nazionale. Io, questo è un mio giudizio personale, Arcelor Vittal ha fatto un grandissimo, un enorme autogol andando a schiacciare il diritto di libera espressione. Una situazione molto ma molto grave, un'azienda che, lo dico apertamente, uccide nello stabilimento, anzi per miracolo non sono avvenuti morti all'interno dello stabilimento, ma comunque la potenzialità omicida c'è, considerando gli incidenti gravissimi che solo per miracolo non si sono verificati. Dall'esterno, considerando le emissioni, avviene di tutto, di più. A Taranto sì, i tumori e le morti per cancro aumentano copiosamente, vengono schiacciati i lavoratori. Questa è l'immagine di una realtà dittatoriale, assolutamente dittatoriale, con la complicità del governo che risulta essere, come dire, appiattito rispetto ad Arcelor Vittal. Questa mattina noi auspichiamo un incontro con il ministro, motivo della presenza dell'USB e di Cristello. Il ministro del lavoro, Orlando, già si è intervenuto sulla vicenda perché ha contattato Arcelor Vittal chiedendo la documentazione alla base del suo licenziamento. Quindi ora si spera che il governo ripristini il diritto alla libera espressione. Sì, spero di poter avere questo incontro e il piacere di incontrare il ministro, anche per far sentire la mia voce e il fatto così come è avvenuto dal mio punto di vista. E niente, poi vediamo evolversi. Io mi auguro, come ho sempre detto, che evolva per il meglio, che di rientrare in fabbrica, di tornare sul mio posto di lavoro. Ecco, io ho particolarmente apprezzato l'atteggiamento di Riccardo Cristello che ha, come dire, tenuto la schiena dritta, nel senso che ha rivendicato il suo diritto di espressione, ma ha anche puntualizzato che quei riferimenti erano già precedenti all'avvento di Arcelor Vittal, come dimostra lo studio Sentieri, che è datato antecedentemente all'arrivo di Mittal. Quindi, anche da un punto di vista proprio, come dire, giuridico e giudiziario, questa è la prova provata che nel suo post non c'è, come dire, l'animus di voler ledere l'azienda. No, ma ripeto, non era a mio interesse ledere nessuno, offendere nessuno. Era una valutazione in generale di un cittadino. È stato un copia e incolla di un post fatto sul divano di casa, avendo letto di cosa trattava. Ripeto, siccome io abito a Taranto, vivo a Taranto e ci vivo da 45 anni, quindi so cosa è successo 20 anni fa e tutto quello che ne sta avvenendo adesso fuori, e per quello non vedevo nulla di male nel far girare questo post nel mio gruppo privato di amici per dire, vedetela, magari potete capire meglio quello che è avvenuto a causa di una siderurgia fatta in quella maniera. Certo che la vita è strana. In dieci giorni, più o meno, la vita di Riccardo Cristello si è completamente trasformata. Sì, si è completamente trasformata, però non l'avrei mai voluto, sinceramente. Certo, no, ci mancherebbe. Non è facile sopportare questo peso che oggi ho addosso. Ringrazio tutti per il supporto morale e psicofisico che mi state dando, perché senza di voi non ce l'avrei mai fatta, sinceramente. Continuo a ringraziare tutto, il mondo dello spettacolo, i politici, la popolazione tutte, i lavoratori, insomma tutte... Si spera anche che ci siano dei parlamentari che intervengano? Sì, mi stiamo dicendo che probabilmente ci sarà qualche altro parlamentare che interverrà a mio favore, sperando di che facciano anche da, non hanno spento, facciano diciamo da pacere per far sì che questa accusa si risolvi... Per risolverla positivamente. Sì, positivamente nel più breve tempo possibile. Bene, è in presa diretta, Rizzo è impegnato con altri colleghi, qui volevamo anche sentire un po' il pensiero. Francesco Rizzo proprio al volo, in diretta, qui a Roma per manifestare il diritto alla libera espressione in ambito lavorativo. Sì, assolutamente, qui è un attacco a tutti i lavoratori, c'è la vicenda di Riccardo, però il rischio concreto è che alla fine ci sia un attacco alle libertà costituzionali, alla libertà d'opinione e alla libertà d'espressione. Noi siamo qui sotto il Ministero, tra l'altro supportati dai compagni di USB nazionale, dalla settimana nazionale... Scriviamo il Ministro Orlando, c'è l'appello al Ministro. Ci sono tanti parlamentari che si sono offerti, tra l'altro, di intercedere per riuscire ad avere un incontro con il Ministro Orlando e per chiarire noi gli aspetti di questa vicenda, come dire, tragicomica... Grottesca, sì, se non ci fosse, come dire, il diritto al lavoro di un lavoratore ci sarebbe da ridere, perché gli estremi non ci sono del licenziamento. Noi gli estremi diciamo che poi alla fine è la facilità con cui questa gente qui, che ha un esercizio del potere, come dire, anzi abuso del potere che ha, al centro vorremmo mettere anche la facilità con cui questi personaggi prendono e buttano in mezzo alla strada padri onesti, padri di famiglia, lavoratori, sulla base solo di presunzioni. Loro presumono che con quella condivisione di quel posto tu ce la potresti avere con Arcelor Mittal. Cioè accusano Riccardo, dice, potenzialmente quel posto... È come se fosse un processo alle intenzioni. Potenzialmente quel posto, dice, siccome hai 400 amici, ha potuto raggiungere 400 persone, quindi moltiplicarsi. No, quel posto ha raggiungo 60 milioni di persone, ma non a causa della condivisione di Riccardo, ma a causa del provvedimento che ha combinato Arcelor Mittal. Quindi è stata causa del suo stesso male. Rizzo, ora noi ci aggiorneremo nel corso della giornata, perché chiaramente ci saranno degli sviluppi. Lo sviluppo da ieri a oggi è che l'azienda si era riservata di dare comunicazioni al momento. Sì, assolutamente no. Noi speriamo sempre che prevaga il buon senso. Chiaramente, visto che stiamo qua, io non ho chiacchierato col Ministro, ce la vogliamo fare. Anche perché da ieri ufficialmente l'azienda è diventata a capitale misto, con partecipazione statale. Ci aspetteremmo, come dire, un cambio di passo vero, che secondo noi può avvenire solamente se diamo discontinuità anche nelle persone. L'abbiamo detto più volte, in questa vicenda chi ha responsabilità deve pagare e per quanto ci riguarda... Arcelor Mittal è l'anello marcio della catena. Deve andare via da tarato per tutti i guasti che ha prodotto e che continuerebbe a produrre. Se lo Stato davvero vuole voltare pagina, lo deve fare con un partner diverso. Noi l'abbiamo detto più volte, il primo passo è quello di sgombrare dal tavolo gli elementi di disturbo. Tra questi, quelli che nominavi tu prima. Ci aggiorniamo a breve. Grazie. Guido Lutrario dell'esecutivo nazionale di USB, una realtà che sembra superare la fantasia perché ci troviamo nel 2021 e assistiamo al Medioevo dei diritti. Allora, nella disgrazia bisogna dire che Riccardo ha avuto anche una piccolissima fortuna che è quella di aver incontrato un gruppo di artisti con una grande visibilità mediatica. Sono anni e quando diciamo centinaia, non stiamo scherzando, di lavoratori che per aver scritto su Facebook delle frasi che possono in alcuni casi essere anche offensive, in molti casi sono frasi che raccontano semplicemente la verità, le aziende li licenze. Anche perché mi permetta, c'è tutto un processo sulla siderurgia di Taranto, processo ambiente svenduto, con richieste. Sono diversi diritti in baro. Quindi stiamo parlando di una situazione incancrenita e gravissima che purtroppo è assurda, a danno di Taranto, alle cronache nazionali e internazionali. Quindi ci si scandalizza di quelle affermazioni che ha fatto il dipendente, che sono veritiere, punto e basta. Poi sono affermazioni che si riferiscono, consigliano i colleghi di vedere una fiction che racconta una storia che è la storia della città di Taranto e della tragedia. Si parla del diritto alla vita e della vita dei bambini, non credo che sia reato inneggiare alla vita. Ma tra l'altro ormai sono dati scientifici appurati sul fatto che le conseguenze per la salute dei cittadini e dei lavoratori di Taranto del funzionamento di quell'azienda sono acclarati e evidenti. Io però sottolineo che questo calpestare il diritto di espressione è diventata una norma non scritta che le aziende private si assumono la responsabilità di mettere in pratica e non c'è una resistenza vera su questo. Per cui i lavoratori che si permettono di raccontare la realtà, non di inventarla, vengono sanzionati pesantemente, semplicemente perché stanno raccontando al mondo quello che succede nella loro azienda privata. Ormai il principio della libertà di impresa copre l'insieme dei diritti. A Taranto quello della salute, il diritto al lavoro, al salario e il diritto d'espressione. Ci sono altri rappresentanti, mentre ci muovevamo in presa diretta, mi pare che ci fosse qualche altro rappresentante nazionale di USB. Emilia Papi, noi abbiamo già avuto modo di incontrarci a Taranto tempo fa e quindi dicevo al suo collega del nazionale il Medioevo dei diritti, una schiavitù che evidentemente si vuole imporre nell'ottica di punirne uno per educarne cento. Penso che sappiate che in fabbrica, ve l'avranno detto, che in fabbrica questo post scritto da una mamma tarantina era già girato molto e a quanto pare tanti che avevano girato questo post sono stati invitati a cancellarlo, eliminarlo, però poi invece per due è scattata questa situazione. Riccardo, già avete parlato con lui, io non devo parlare a nome suo. Credo che invece ci sia da parlare riguardo alla questione che lei adesso ha evidenziato, la questione dei diritti dei lavoratori, che vengono sempre più calpestati. Fino adesso si era evidenziato molto i mancati diritti, la dignità per i lavoratori braccianti, italiani e migranti che stanno nei campi. Poi è venuto tutto alla galla, grazie alle lotte dei lavoratori, anche la situazione della logistica, dove ci sono continuamente fallimenti di cooperative e i lavoratori non ottengono né il diritto al TFR, al trattamento di fine rapporto maturato, né i passaggi... Noi tra l'altro stiamo lanciando, per lanceremo il primo maggio, una campagna sulla questione degli appalti, questi appalti che nascondono forme anche di vero e proprio schiavismo, busse paghe non adeguate al lavoro effettivamente svolto e tante altre cose. Lei ha parlato di medioevo, forse medioevo sì, evocativamente va bene, ma io credo che noi stiamo ritornando proprio all'Ottocento, ai momenti della prima rivoluzione industriale, quando i lavoratori, i bambini eccetera erano costretti alle donne a lavorare 12 ore, 14 ore nelle fabbriche inglesi, su cui poi si è costruita la potenza economica dell'Inghilterra e dell'impero inglese. È una cosa pesantissima, noi abbiamo fatto uno studio e stiamo facendo uno studio, abbiamo visto che a ogni passo di costruzione dell'Unione Europea, a partire dalla moneta unica, l'euro, alla creazione dell'euro, in Italia sono avvenuti dei cambiamenti in senso politico con il bipartitismo eccetera e quindi il bipolarismo detto meglio, poi con tutte le leggi che hanno ristretto la volontà di esprimere alla gente, al popolo la propria volontà anche in senso elettorale, con i candidati che vengono indicati dai partiti e sono bloccati eccetera. Insomma un ristringimento della democrazia assolutamente a tutti i livelli, a ciò è finisco, a ciò è corrisposto anche una demolizione della legislazione del lavoro, a partire ma non solo dall'articolo 18 e tante altre cose. Bene, dopo aver ascoltato questo appello della dirigente nazionale di USB e Media Papi, mi piace soffermarmi su questo cartellone, Ministro Orlando, questa non è una fiction, noi pensavamo che certe cose, veramente io non l'ho mai pensato, ma dico così, si poteva immaginare che certi episodi avvenissero solo nella realtà immaginaria della fiction, della TV, del cinema, invece una cruda realtà ci fa vivere questo dramma. L'onorevole Cabras del gruppo Misto, c'è anche qui una rappresentanza di parlamentari che si è dimostrata sensibile alla vicenda. Cosa pensa? Un'azienda che schiaccia Taranto dal punto di vista ambientale, la umilia, ma la umilia anche dal punto di vista proprio umano, professionale, sotto l'aspetto lavorativo, quanto di peggio possa capitare ad una collettività come quella di Taranto, una realtà che stiamo analizzando e che evidentemente esorbita dalla sfera locale ma ha una dimensione nazionale. C'è un problema generale di rispetto del diritto di parola nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, nella società intera, sui temi fondamentali come il tema della salute, è un tema che viene sempre più censurato, sembra che sia più difficile parlarne ed è invece un tema che deve lasciare la massima libertà ai cittadini e ai lavoratori, perché è un tema sempre controverso, è il rapporto della persona con le istituzioni, il rapporto con grandi strutture organizzative che perseguono propri obiettivi e allora rispetto a questi obiettivi c'è sempre la priorità della salute e ci deve essere la libertà di parlarne. Come parlamentari dell'Alternativa C'è, noi ci siamo impegnati direttamente in questa vicenda e cerchiamo di dare un sostegno massimo al lavoratore. Grazie, grazie onorevole. Ci rivolgiamo, ci spostiamo dall'onorevole Angrisano del gruppo misto, una situazione incredibile. Da Taranto si assiste a uno scenario penuso. Sembra che in Italia la democrazia sia andata in stand-by e la cosa grave è che questi episodi avvengono con la complicità del governo, perché il governo ora ufficialmente con Acciaio d'Italia è il partner di Arcelor Mittal. Purtroppo sì. Noi siamo qui stamattina per mostrare solidarietà all'operaio e poi per far capire alle persone che non è solo in gioco il posto di lavoro, ma la democrazia. Non c'è più quella democrazia che è garantita dalla Costituzione, adesso si sta perdendo. Dopo, fra poco, insieme ai nostri colleghi andremo a cercare di parlare con il Ministro Orlando, sperando che ci riceva, ma non ci fermeremo qui, altrimenti ricorreremo al Mise, a tutti quelli che ci potranno supportare per cercare di poter mettere fine a questo scempio, perché non possiamo tollerare che la libertà di pensiero venga ostacolata. Grazie. Bene, vedremo tra un po' se si riuscirà davvero ad avere questo incontro con il Ministro Orlando, che ovviamente è il massimo rappresentante, parliamo di un ambito lavorativo, ma anche componente di un governo che ha sposato Arcelor Mittal. Ed è certamente il momento più importante, il momento clou, diciamo così, il motivo della trasferta a Roma, l'incontro con il Ministro o chi per lui ci auguriamo che sia proprio il Ministro Orlando ad accogliere appunto il dipendente Cristello e anche la rappresentanza sindacale dell'USB. Vedete un serrato controllo anche in tempo di Covid, quindi la massima allerta, ma ci auguriamo anche se sarà possibile di riuscire a strappare, diciamo così, alla fine delle dichiarazioni appunto del Ministro. Ora il Riccardo Cristello ha già varcato la soglia e salito e quindi a momenti dovrebbero arrivare a raggiungerlo anche, a raggiungerlo una rappresentanza dell'USB, non sappiamo anche se ci saranno poi altri parlamentari che si affiancheranno. Si è da poco concluso l'incontro con il Ministro del Lavoro Orlando, Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, qual è il suo giudizio, la sua valutazione rispetto a questo incontro? Tanto cosa è emerso? Un giudizio è positivo, è emerso quello che già sapevamo, che il Ministro è intervenuto chiedendo delucidazioni chiarimenti rispetto a questa situazione che si è venuta a creare a Taranto. Chiaramente noi abbiamo rappresentato al Ministro la situazione di Riccardo perché in questo momento è centrale ma un po' come dire il modus operandi che purtroppo da quando la Morselli e Ferrucci sono a gestire la fabbrica di Taranto è diventato normalità, cioè quella di licenziare le persone così per… Di morirle? Sì, secondo noi lo schema è quello, tant'è vero che io in un passaggio ho detto al Ministro guardi che non siamo preoccupati dell'eventuale causa in tribunale, siamo preoccupati del fatto che se passa l'ennesimo atto che io definisco di terrorismo psicologico è chiaro che tu avrai una pratica di lavoratori impaurita perché il messaggio, l'obiettivo probabilmente è quello e gli ho fatto l'esempio del lavoratore l'anno scorso licenziato perché è stato accusato di aver girato il video dell'altro dipendente abbandonato sul tetto delle coperture dei parchi, cioè gli ho detto è un atteggiamento che non solo non si merita nessun lavoratore in Italia, a Taranto poi tu assumi un atteggiamento del genere nei confronti di un gruppo di lavoratori che sono 10, 11, 12 anni che stanno subendo le peggio cose e quindi è chiaro che scatta un meccanismo come dire, il Ministro sono preoccupato perché qui la tensione la dovremmo abbassare. E il Ministro poi mi pare che ha parlato anche di coesione tra le forze, tra tutti gli attori di Taranto. Sì, anche perché gli ho detto signor Ministro, guardi gli ho detto c'è tutta la responsabilità di sto mondo, noi sono anni che protestiamo come USB però come dire io ogni volta rimarco il fatto che anche con le forze di polizia c'è tanto di quella collaborazione perché uno evita di alzare un clima di tensione quindi tenta sempre di manifestare nel rispetto dei diritti degli altri. Gli ho detto ma quello che è successo ieri quando noi stavamo protestando con l'azienda che ci contatta e ci dice inviatemi l'integrazione e la giustifica, ci fanno capire che erano immediatamente disponibili a chiudere positivamente la faccenda. Noi lì in attesa con Riccardo come dire che sta subendo pressioni gigantesche da giorni e ti arriva la foto che questa qui la Morselli invece di guardare la giustifica e di preoccuparsi dei problemi dell'Irba se ne va allo stadio a vedere la partita del campo. Dove non era mai andata. Dove non era mai andata, come dire, è l'ennesimo schiaffo. Ma il Ministro quindi si è impegnato a contattare i vertici di Arcelor Mittal per intervenire sulla vicenda? Il Ministro ha detto che già di per sé è grave l'atteggiamento, non è condivisibile la scelta che ha fatto l'azienda. Cioè era assurdo il licenziamento per il Ministro? In un'azienda normale. Ho detto figuriamoci, questa poi da ieri è un'azienda partecipata, quindi ha detto che lui chiaramente anche sul ragionamento, sul clima da instaurare con la nuova società interverrà, tra l'altro ha fatto un passaggio dicendo pure che tenterà anche di tirare dentro Draghi la questione dell'Irba perché lui ha fatto un passaggio dicendo che la questione l'Irba per avere la possibilità, come dire, di avere qualche risultato positivo ha bisogno della condivisione di un clima rasserenato, del coinvolgimento delle parti sociali e dei lavoratori ma anche e soprattutto della comunità. Cioè lui ha detto stressamento, non è possibile che non ci sia nessun tipo di dialogo con il territorio, con gli enti locali, con la regione Puglia. Perché ora è nata Ciaieria d'Italia quindi lo Stato italiano e il governo avrà le sue responsabilità e non può chiudere gli occhi dinanzi a questa vicenda, diventando partner almeno per ora al 50% e poi al 60% di Mittal. Assolutamente sì, gli ho detto che il governo ha l'obbligo di intervenire su questa vicenda non perché la vicenda di Riccardo Cristello è basta, questo è un precedente pericoloso per tutti i lavoratori italiani. Vi l'abbiamo detto in maniera chiara, il messaggio che la multinazionale sta lanciando a tutti i lavoratori è se parli o se esprimi un'opinione io ti licenzio e se non mi chiedi scusa io non ti riassumo perché questa è la seconda parte purtroppo di una fiction, della realtà che è diventata peggio della fiction. Riccardo sei stato involontariamente protagonista di questa vicenda, abbiamo notato la tua emozione giustificatissima, cosa ti ha colpito relativamente a questo incontro, sei più speranzoso, più fiducioso, insomma le tue impressioni a pochi minuti dalla conclusione di questo incontro con il Ministro Orlando? Certo, è un incontro che mi dà ancora più speranza nel poter riavere il mio posto di lavoro, il fatto stesso che un Ministro si interessi in questo modo al caso ti dà speranza perché io ho sempre detto di pensare di essere dalla parte della ragione, il Ministro si è mosso, ha chiesto spiegazioni. Oltretutto riconosciuto davvero assurdo, illegittimo il tipo di provvedimento, ossia il licenziamento come modalità. Come modalità, come tutto, anche lui ha detto che si poteva fare un'ammunizione senza arrivare alla sospensione nella peggiore delle ipotesi. che poi magari io avrei contestato, però anche lui dice che arrivare direttamente all'estremo, al massimo del licenziamento che sembra un po' esagerato. Lui deve fare anche il suo, quindi non può entrare poi direttamente nel caso, però il suo interessamento comunque si è visto. Tant'è vero che ieri sono stato convocato, Franco Rizzo vi ha già raccontato tutto, ora siamo ancora in attesa dell'evolversi. Io sono comunque speranzoso sul fatto che si possa risolvere al meglio tutta la situazione. Grazie. Il senatore Gianluigi Paragone, ci rivediamo a distanza di 24 ore, ieri eravamo dinnanzi alla direzione Arcelor Mittal a Taranto per il presidio di USB, a distanza di 24 ore dinnanzi al Ministero del Lavoro. Paragone un incontro in cui il Ministro Orlando ha di fatto riconosciuto l'assurdità del provvedimento di licenziamento, ma in questo caso occorrerà passare dalle parole ai fatti, perché governare la siderurgia con un partner come Mittal sarà tutt'altro che facile. Allora facciamola facile, qui siamo ancora in una fase di interlocuzione, Riccardo ha ancora sul proprio capo un licenziamento, quindi fin tanto che non c'è la revoca del licenziamento le chiacchiere stanno a zero e gli impegni rischiano di essere gli impegni della politica. Evaporare. Noi dobbiamo assolutamente ancora domani difendere Riccardo, perché il giochino qual è? Ok, vi abbiamo ricevuto, adesso le telecamere si spengono, i microfoni si spengono, l'attenzione si spegne e quindi poi loro possono portare avanti un discorso folle, che è quello di un licenziamento perché ha postato l'invito a guardare una fiction televisiva. La battaglia di difesa di Riccardo è ancora oggi, domani che va fatta ancora con maggiore insistenza, quindi non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Ci facciamo forte della consapevolezza che comincia a essere diffusa che i padroni esistono ancora, che i padroni ti possono licenziare perché tu inviti i tuoi amici a guardare una fiction televisiva. Questo è il messaggio più pericoloso, ma stavolta hanno commesso l'errore, l'errore di andare a manifestarsi un po' troppo nella loro arroganza. Aggiungo e io mi auguro che il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico capiscano che in un momento del genere di disoccupazione, di crisi occupazionali, di precarietà diffusa, tu vai a licenziare perché hai postato, perché hai manifestato il tuo pensiero. Vuol dire che già in una difficoltà economica si aggiunge anche l'opzione per cui puoi licenziare per un posto sulla bacheca Facebook. Allora queste cose vanno assolutamente respinte, va tirato su una diga, un muro a difesa dei diritti dei lavoratori e contro l'arroganza dei padroni che esistono ancora. Certo che è molto significativo il fatto che una fiction ha messo in ginocchio un colosso franco-indiano, un colosso che evidentemente è un gigante d'argilla. Non lo ha messo in ginocchio, ha messo a nudo quella che è la sua arroganza perché lo metteremo in ginocchio quando revocherà il licenziamento ai danni di Riccardo senza che Riccardo debba chiedere scusa. E quella è la sfida che dobbiamo vincere. Di sicuro abbiamo che attraverso una fiction televisiva la gente ha potuto capire che quello che tutti oggi stiamo vivendo con il lockdown e quindi la scelta tra la salute e il lavoro, tra la salute e l'economia a Taranto e non solo a Taranto è una scelta che stanno vivendo decisamente da decenni, tanti troppi decenni. Per concludere molto... Perché può essere anche Gela, può essere Porto Marghera, può essere Trieste. Qualsiasi realtà siderurgica. Esatto. E per concludere la Valenza, l'importanza dell'apporto del mondo dello spettacolo e della cultura. Sono stati davvero fondamentali, hanno rappresentato il Grimaldello per abbattere un colosso, per cercare di abbattere un colosso, ripeto, che in quanto a comunicazione fa acqua da tutte le parti. Questo fa capire che la cultura è importante, che la cultura ha un messaggio politico-sociale enorme quando è giocata bene. Quindi un film, una fiction, anche talvolta una canzone, hanno una portata di rottura. A volte uso questa parola che potrebbe essere demodè, quanto padrone, che però sono reali. Una portata eversiva. Cioè, riuscire a rompere uno schema di arroganza, uno schema di violazione e costruzione dei diritti. Bene, si conclude qui il nostro speciale televisivo, il nostro speciale Polifemo. Un bel viaggio, perché i viaggi sono belli quando si lotta per i diritti. Innanzitutto per il diritto alla libertà di espressione, alla libertà di un uomo, quale è appunto Riccardo Cristello, che ha espresso liberamente il suo pensiero senza offendere nessuno. Beh, così al termine di questo incontro con il Ministro, come ho già detto, aspettiamo risposte. L'unica risposta che ci interessa è la reintegrazione, il ritiro del licenziamento che ha per oggetto Riccardo e l'auspicio, non so fino a che punto, che davvero il Medioevo dei diritti con questa industria a Taranto sia sconfitto. Forse è un auspicio, è un sogno di vedere certi atti di arroganza scomparire, ma noi come modesti organi di informazione ce la stiamo mettendo tutta. E viva la libertà di espressione e viva Riccardo!